Il Jiu-Jitsu è la biomechanica del corpo. L'approccio allo è facile e semplice. Il Jiu-Jitsu è amico. Questo perché è istintivo. Durante la combina, gli animali cercano di impulsare la libertà sull'oponente, controlandolo, cercando una posizione dominante sul giro. I figli giocano il giocatore, rilassando sul giro. L'istinto. I figli giocatori, iniziano la combina, prima di finire sul giro, dove sarà un vero Jiu-Jitsu. Un gioco di Asgard per controllare un passato forte. Il Jiu-Jitsu è dentro di noi. È l'istinto animale. È l'istinto basico. È l'istinto. È l'istinto. È l'istinto. È l'istinto. È l'istinto. È l'istinto. È l'istinto.